Godere della bellezza del mare in tutte le sue sfumature nelle quattro stagioni da ora sarà possibile in Abruzzo, grazie al Via Libera della Regione che ha concesso agli stabilimenti balneari di restare aperti tutto l'anno. Riccardo Padovano, presidente Sib Conf Commercio, parla di una svolta importante nella balneazione. I balneatori hanno chiesto un'area ad hoc per attuare diverse iniziative che potrebbero garantire un maggiore afflusso di turisti tutto l'anno e riscoprire il mare nelle altre stagioni e non solo d'estate. Da quest'anno, dal 28 ottobre che scade l'ordinanza balneare per la balneazione, il giorno dopo è sufficiente che il titolare di uno stabilimento balneare faccia la domanda, comunichi all'ente di appartenenza, al comune, che la sua attività rimane aperta per fare attività di elioterapia e abbiamo inserito anche la questione sanitaria, cioè nel senso che l'elioterapia rientra in quell'attività di un'attività termale. Le stesse cose si possono fare qua. Cosa si può fare? Noi abbiamo chiesto un'area di almeno mille metri quadri per rendere poi quello spazio utile alle persone con cittadini che vengono in cui possono soffrire del parco giochi, del lettino, della poltroncina con la cappottina. Ci sono delle poltroncine e cappottine che servono per evitare le brezze marine. La tramontana è un vento freddo, però è pure carino stare al mare con il giubbino e prendere il sole. Ma la bellezza di tutto questo è anche il fatto che il titolare dello stabilimento balneare non entra in malinconia perché chiude. Noi vediamo questi lidi poi alla fine d'inverno che sono recintati, che sono chiusi. Questo darebbe anche un valore aggiunto alla città. L'attività non è un'attività che poi porta un aspetto economico ma più un aspetto di prestigio al titolare dello stabilimento balneare che continua a fare la sua attività invernale insieme ai suoi clienti. Io credo che la Regione Abruzzo quando ha accolto la nostra richiesta ringrazio l'assessore Campidelli che ha recepito questa nostra istanza, la dirigente Antosa che ha capito l'importanza di inserire. Siamo l'unica regione in Italia che ha messo questa attività. A volte dicono che dobbiamo copiare il Romagnolo. Beh, questa volta ci copiassero loro noi. Il mare, quattro stagioni e poi diciamoci la verità. Il mare d'inverno ed autunno è uno spettacolo. È la parte più romantica. Chi viene a fare passeggiate nel mare d'inverno di solito perché ha un suo fascino tutto particolare. Il grigio del pomeriggio d'inverno è favoloso. Non posso non farle questa domanda concessioni baleari? Sulle concessioni baleari c'è una grande discussione. Noi presso l'Università di Teramo ci sarà un convegno tecnico giuridico dove parleranno professori dove buona parte di essi dicono che quella sentenza del Consiglio di Stato è una sentenza che la giurisprudenza non doveva scrivere. Lo hanno scritto, gli si è detto di come scrivere quella sentenza. Molto ovviamente la politica è intervenuta in quel contesto. Noi siamo fiduciosi, abbiamo fatto ricorso. Sicuramente la politica affronterà il tema e darà a noi la garanzia per tenere un'impresa.